E' stato assegnato l'appalto per i lavori di realizzazione della nuova sede municipale del comune di Nagotorbole, che verrà costruita sulle fondamenta dell'Ex Dependence all'interno del Parco Pavese. La gara per la costruzione dell'edificio, un prefabbricato con una struttura in legno, all'avanguardia e con le più moderne tecniche di risparmio energetico, è stata vinta dall'impresa Mac Costruzioni di Lavis. Alla realizzazione del municipio seguirà la riqualificazione del Parco Pavese e la costruzione della nuova piazza, un'opera che complessivamente, sistemazioni esterne incluse, costerà 4,2 milioni di euro.